Ebbene a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo qui con il primo video di una nuova serie, ovvero Top e curiosità sul mondo del calcio, che vi invito a supportare lasciando like e iscrivendolo al canale. Detto questo, oggi scopriremo quale sarebbe stata la formazione del Palermo qualora non avesse venduto i suoi talenti, oggi in grandi squadre. Partiamo dalla porta, dove troviamo Emiliano Viviano, portiere al Palermo nel 2012 e attualmente alla Sampdoria. Proseguiamo con la difesa, dove troviamo Emerson Palmieri, al Palermo dal 2014 al 2015 attualmente al Chelsea. Poi abbiamo Andrea Barzagli, al Palermo dal 2004 al 2008 attualmente alla Juventus. Poi abbiamo Camille Glick, al Palermo dal 2010 al 2011 attualmente al Monaco e per chiudere la difesa abbiamo Matteo D'Armian, al Palermo dal 2010 al 2011 attualmente al Manchester United. Iniziamo col centrocampo, dove troviamo Avier Pastore, al Palermo dal 2009 al 2010 attualmente al Parese German. Proseguiamo con Franco Vasquez, al Palermo dal 2013 al 2016 attualmente al Siviglia. E finiamo il reparto di centrocampo con Josip Ilicic, al Palermo dal 2010 al 2013 attualmente all'Atalanta. E infine troviamo in attacco Paolo Di Bala, al Palermo dal 2012 al 2015 attualmente all'Aventus. Poi abbiamo Edison Cavani, al Palermo dal 2007 al 2010 attualmente al Parese German. E Andrea Belotti, al Palermo dal 2013 al 2015 attualmente al Torino. E detto questo, se il video vi è piaciuto lasciate like, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo in un prossimo video.